Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video dei Cavaleri Family! Io sono mamma Claudia e oggi è successa una roba pazzesca! No, vabbè, prima di spiegarvela, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavaleri Family, attivate la campanella, mettete un sacco di like, ma soprattutto fateci sapere se anche voi avete mai incontrato Super Mario! O se vi piace, il gioco di Super Mario Bros. Sentite questo rumore? Oh mio Dio, oggi in casa Cavaleri Family è accaduto proprio questo, ve lo faccio vedere subito! Guardate ragazzi, sta accadendo qualcosa, oddio! Ragazzi, l'avete visto anche voi? È papà salvo, si è trasformato in Super Mario, ma perché? E poi mi sta lanciando delle strane cose, mi lancia dei palloncini, dove vai? No papi, no, 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 cosa mi vuoi lanciare? No! Ehi, sono Super Mario, ciao a tutti i ragazzi! Let's go! Ma cosa stai facendo papi? Ma che cos'è quella roba che hai in mano? Questo è il mio fungo, quello maledetto, ti farà perdere la vita! Tu mamma, hai due vite a disposizione per trovare tutti gli ingredienti slime! Appena ti colpirò col mio fungo palloncino, perderai la vita! Let's go! Oh mio Dio ragazzi, avete sentito che cosa ha detto? Ma è pazzito, è convinto di essere in un videogioco! Io mi devo nascondere da qualche parte, dove li avrà infilati questi ingredienti slime! Mamma mia, non so che cosa devo fare! Non lo so, vado fuori dalla finestra anch'io, anche perché non lo posso vedere che salta così come un pazzo e poi le vite! Mamma! C'è anche Noemi, eccola! Ciao amore mio! C'è la colla! Come c'è la colla? L'hai già trovata? Sì! E dov'è? Di qua! Eccola! Andiamo a prendere la colla! Andiamo a prendere la colla subito! No, sta arrivando Mario! Palloncino! Ma no! Ha perso una vita! Let's go! Questo gioco non mi sta piacendo per niente, iniziamo a prendere subito la colla a Emy prima che sia troppo tardi! Mi manca una vita sola, fuggiamo! Prendi tu la colla Emy, ti prendo in braccio, vieni! Forza, prendiamo la colla, dai Emy, dai Emy, dai, 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 allungo il braccio! Colla presa! Il primo elemento ce l'abbiamo! Ragazzi, fateci sapere e commentate qui sotto se anche voi avete giocato a Super Mario Bros! Ho fatto l'ingandesima d'aurora! Giocherà per sempre a Super Mario! Mamma, ancora non lo sa! Mamma! C'è anche Aurora che mi sta chiamando! Auri, dove sei? Mamma, sto giocando a Super Mario! Guardate, ragazzi! È bellissimo! Non riesco a smettere! Super Mario mi ha fatto un incontesimo! Se fate giocare a Super Mario, io sì! Oh mio Dio, ma che sta succedendo? Aurora! 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 Auri! Auri! Uhuh! 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 Anche Noemi ora! Uhuh! Emy, Aurora! Emy, Aurora! Emy, Aurora! Sono ipnotizzate! Let's go! Ecco, lo sta ritornando! Ha ipnotizzato tutte e due le bibbe! Io sono rimasta da sola con questa colla! Ora mi lancerà un altro palloncino! Sono sicura! Un altro fungo venenoso! Mi è rimasta una vita soltanto! E devo trovare ancora tutti gli ingredienti slime! Go! Go! Let's go! Sta ritornando! Mi devo inventare qualcosa! Aiuto! Devo andare a cercare gli altri ingredienti! Oh! Devo andare a trovare le monete! Le devo trovare tutte! Eh eh! Perché devo trovare la principessa e salvarla! Ah ah ah! Lezione! Ragazzi! Ragazzi, ma cosa sta facendo? Ma lo vedete anche voi qua dietro? Guardate, guardate quell'ombra! È convinto di trovare le monete! È impazzito totalmente! E io non so più che cosa fare! Però ora non sta sbucando più! Forse è andato a nascondere gli altri ingredienti slime nel frattempo! Non sta tornando più! Guardate! Mi conviene uscire! Lo so che è rischioso! Ho paura! Però mi conviene uscire! Devo salvare le bimbe! Sono ipnotizzate! Guardate ragazzi! Sono rimaste lì! Ipnotizzate! Non le fa muovere più! Mi devo muovere! Ecco! È ripassato di nuovo là dietro! L'avete visto? Continua a passare! Oddio! Eccolo! Di nuovo! Di nuovo! Ah! Meno male che non mi ha preso! Ho trovato questo! Il palloncino rosa! No! 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 Quella è una vita! Lo sapevo che avevo trovato il palloncino giusto! Questa è una vita! Me la prendo subito! E ora che faccio? Come faccio a prendermi la vita? Così? Eeeh! Sì ragazzi! Ho ben due vite! Ce l'ho fatta! Ora posso continuare a trovare gli altri ingredienti slime! Let's go! Devo scappare! Devo scappare immediatamente! Subito! Ti prendo mamma! Vieni qua! Dove vai? Vieni qua! Ti butto il punto! No! Ragazzi! Dove è finita la mamma? Ragazzi! L'ultima! Non la troverà di certo! Guardate dove ce l'ho! Dentro il cappello! O il liquido per lenti! Ah 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 ah! Ehi! Chi è lì? Vieni mamma! È lì! È lì! Dov'è? Oh! È lì! Vieni qua! No! Dove scappa? Dove scappa? Come faccio a prenderla? Come faccio? È qui! Guardate! Ma no! Non mi puoi fare le linguagge! Scusa eh! Se trova l'altra colla la mamma! Sicuramente Aurora e Noemi finisce l'ingandesimo! Io comincio a perdere! Ragazzi sono riuscita a sfuggire per poco e guardate là dietro Super Mario è rimasto lì col fungo velenoso! Mi vuole togliere una vita! Ma io ho ascoltato tutto quindi devo trovare l'altra colla per far svanire l'incantesimo di Aurora e Noemi che potrebbero aiutarmi! E poi fare lo slime a questo punto ma un elemento so che è sotto il cappello di Super Mario papà salvo! Ma guardate che tonto che è! Lancia il fungo contro il vetro! Secondo me si è anche incantato! Si è messo in blocco come nel videogioco! Sì sì si è bloccato come nel videogioco! Questo è sicuro! Io devo approfittare! Devo approfittare assolutamente di questo momento! Ma guardate cosa sto trovando ragazzi! Non ci posso credere! Che fortuna! Una colla l'aveva nascosta proprio qua dietro! L'ho trovata! Sicuramente l'incantesimo di Aurora e Noemi sarà terminato! Devo andare assolutamente a vedere ma è scomparso Super Mario! È sparito! Non c'è più! Guardate! Ne devo approfittare assolutamente! Devo uscire da qui o meglio devo entrare lì dentro perché sono fuori! Mamma! Ecco! C'è Aurora! C'è l'amore mio! E' anche di Noemi! Mamma hai trovato l'altra colla! Ce le diamo tutte e due le colle! Ma che fine ha fatto Super Mario? Auri non ne ho idea! Una cosa è certa! Meno male che il vostro incantesimo è svanito! Dobbiamo trovare l'ultimo ingrediente per fare lo slime! Ci manca ancora il liquido per lentine! E la ciotolina da qualche parte! Torniamo in stanza! Vediamo se è tutto di là! Venite! Venite con me! Sì sì! Torniamo in stanza! Mamma! Super Mario è grosso in pausa! Perché io ho messo in pausa! Davvero Auri? Allora andiamo! Ritorniamo in stanza subito! Ragazzi l'abbiamo messo in pausa! Questo è il momento giusto per cercare un altro ingrediente! È vero! Potrei cercare anche sotto il cappello! Ho paura che toccandolo potrebbe svegliarsi! Guardate ragazzi! Ha il fungo velenoso nelle mani! È pronta a lanciarmelo questo fungo cattivo per farmi perdere un'altra vita! Noi ce la faremo e ti sconfiggeremo! Anzi ti faccio una bella pernacchia! Visto che non ti puoi muovere! Ti faccio una bella pernacchia! Mamma! Mi sa che è in frigo! Continuiamo il frigorifero! Auri! Apri il frigorifero! Che cosa c'è dentro? Avevi ragione tu Auri! Bravissima amore mio! Meno male che ci sei tu! Finalmente abbiamo trovato anche la ciotola e la spatola che ci serve per creare lo slime! Ma Emi! Che cosa stai facendo? No! Play! Let's go! No Emi mi stai facendo! Ciù! No! No mi ha colpito! Di nuovo ho riperso la vita! Let's go! Ma che? Super Mario! Gli sta venendo un colpo di sonno! O io li volete! Ragazzi! Si è attormentato per davvero! Che creghi! Forse è andato in blackout! Non lo so! La tartaruga! La devo uccidere! Mamma ne dobbiamo approfittare! Controlliamo sotto il cappello! Vado io! Hai ragione Auri! Controlliamo sotto il cappello! Fallo tu! Piano piano piano! Piano piano piano! È difficile Auri! Dai piano! Let's go! Luigi! Luigi salvami! Brava! Ce l'abbiamo fatta mamma! Manca lo slime! Perfetto Auri! Ma per essere più sicuri nascondiamoci in bagno! E se si sveglia all'improvviso! Nascondiamoci in bagno! Lì saremo sicuro! Andiamo a fare lo slime! Andiamo! Chiudiamoci dentro! Ok Auri! Questa è la tua colla! Emi! Questa è la tua! Mettiamo la colla! Mettiamo la colla! Vai Emi! Spremi! 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 Brava! Così! Guardate che bello! Si sta mischiando tutto! Ok basta! 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 Ragazzi! Guardate che bei colori! Ora manca il liquido per lentine! Basta così! Giro io mamma! Un attimo! Giro tu Emi! Ragazzi! Si sta avvenzando! Non ci posso credere! Auri! Sbircia un po' qua fuori! Vai Auri vai! Che è successo? Sì ragazzi! Babà! Ma che fa? Ma siete stati al mare? No! In piscina? No! Non vi siete divertiti? Papi tu non puoi capire cosa è successo! Cos'è successo? Siete stati in piscina a mare da qualche parte mamma? No no papi! Meno male che sei tornato tu! Perché non ci potrai credere mai! Se ti dico che eri diventato Super Mario! Oddio mio! Ora Super Mario mamma! Tutti e tu te la invendi mamma! Ma dai! Non è vero papi! Non è vero! Non è vero! Comunque ragazzi! Speriamo che questo nuovo video vi sia piaciuto! Iscrivetevi al canale Cavaleri Family! Attivate la campanella! Mettete un sacco di like! E ricordatevi che... Let's go! Di nuovo con l'incantesimo! Ma che ti sta succedendo papi? Ma non lo so! Ragazzi! Ricordatevi! Noi siamo i Cavaleri Family! No io faccio io! Let's go! Ma cosa stai facendo? Ma che dici? Ciao ragazzi! Sì! 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 Guardate! Devo giocare! Di nuovo! No!